Mi chiamo Pietro Tanduo, sono il direttore del Centro Tom, occupo la funzione di store manager. Il Centro Tom è una realtà che negli anni ha confermato la sua leadership commerciale sul territorio proponendo un mix matching che spazia dal mondo confezioni uomo, donna, bambino, ma inoltre anche sullo sport e sulla casa. Oggi ci troviamo con la necessità di rinnovare ogni funzione dell'azienda, in quanto è fondamentale che venga sviluppata la parte rivolta al marketing e alla comunicazione. Abbiamo la necessità di rinnovare anche tutta l'organizzazione delle nostre risorse umane. Parlo della vendita, parlo dell'amministrazione, parlo del magazzino, controllo di gestione rispetto ai sistemi, rispetto alla logistica e parlo di ogni funzione. Abbiamo sposato in pieno questo progetto, siamo soddisfatti dei risultati che stiamo raggiungendo con un'adeguata preparazione che potranno garantire in futuro un servizio adeguato alla vendita dei nostri prodotti. L'obiettivo è quello di dare al cliente un servizio adeguato sia da un punto di vista tecnico, oltre che da un punto di vista di contenuto a moda. Sono Giulia, ho 27 anni, ho avuto la fortuna di far parte a questo progetto di formazione. Precedentemente lavoravo come personal trainer su una palestra. Speriamo che dopo questo percorso possa essere assunta in questo posto che ho scelto, che ho ricercato, perché comunque lo trovo un bel ambiente, un ambiente sano. Questo progetto mi ha dato modo di fare varie attività, comunicazione, lavori di gruppo e secondo me è un buonissimo progetto di inserimento nel mondo del lavoro del centro Tommasini. Sono Fabio, ho 37 anni, faccio parte dell'azienda Tommasini da quasi 19 anni e sono responsabile del reparto Uomo Confezioni. L'azienda mi ha messo a disposizione di partecipare a questo corso di formazione con App Industria e ritengo di essere fortunato perché dopo 19 anni di permanenza in Tommasini ne ho fatti più di qualcuno e devo dire che questo è quello strutturato al momento in maniera più completa e ti coinvolge molto di più rispetto a tutti gli altri corsi fatti finora. Quindi spero che questo corso venga esteso a tutto il personale proprio per la sua validità. Sono Silvia, lavoro con la ditta Tommasini da 28 anni, sono referente del reparto Aredo Casa e sto frequentando un corso con App Industrie. Sto trovando molto bene in questo corso perché ho avuto modo di conoscere più a fondo i miei colleghi, anche quelli degli altri reparti e sto conoscendo anche delle persone da fuori in modo diverso. Spero che questo corso possa essere fatto anche ad altre persone del nostro staff perché l'ho trovato molto interessante rispetto ad altri che abbiamo fatto in passato. Sono Edoardo, ho 19 anni, finito scuola ho avuto l'occasione di partecipare al corso con App Industria e un piccolo stage in azienda. Questo corso mi ha permesso di crescere e di affrontare il mondo di lavoro che non avevo mai conosciuto, di conoscere persone molto a portata di mano, molto umili e molto professionali. Finito questo corso spero di far parte di questa azienda perché secondo me è un'azienda molto solida e ho capito che questo è il lavoro che voglio fare. Sono Donatella e sono 19 anni che lavoro presso l'azienda Tominesini e sono da 4 anni responsabile del negozio Yamamai. Il corso mi sta dando molte soddisfazioni personali e mi sta facendo anche scoprire dei lati che tenevo un po' nascosti. I ragazzi che stanno facendo il corso insieme a noi verranno inseriti anche in azienda per poter lavorare ed essere già a contatto con i clienti. Io sono Giovanni Petrucci, sono psicologo del lavoro, sono formatore, sono stato chiamato per gestire, per organizzare e per fare una parte della formazione per questo progetto valore per Tom Tominesini. Mi sono trovato davanti a una situazione molto interessante, molto complessa, in cui è un'azienda molto grande ma strutturata come un'azienda sanitaria. La formazione che stiamo facendo ha un doppio obiettivo. Da una parte deve mandare un messaggio, un messaggio a tutti i lavoratori e dipendenti che l'azienda tiene a loro e tiene alla loro crescita personale. Dall'altra parte questo progetto valore ha una peculiarità, che ogni corso deve essere composto da persone interne all'azienda, che magari lavorano nell'azienda da 30 anni o più, e persone esterne, persone disoccupate che sono state appositamente selezionate. Quindi quando mi trovo in aula con queste persone, mi trovo con persone molto esperte del lavoro che fanno dentro l'azienda, persone esterne molto esperte perché hanno una carriera alle spalle, persone che invece ancora non hanno un'esperienza relativa. Questo vuol dire che abbiamo dovuto scegliere tecniche molto interattive, in cui ogni corsista non si deve annoiare, non deve frustrarsi, ma anzi deve portare qualcosa al corso, al gruppo, per farlo crescere, per dare proprio contenuto. Ci stiamo divertendo molto, io mi sto divertendo molto, penso che avremo degli ottimi risultati, vedremo quando finiremo il corso.